E ciao ragazzoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io come al solito sono Rick, continuiamo con Max The Course of Brotherhood, il nostro GG, il nostro gioco gratis del mese di luglio con Xbox One. Oh cacchio, eh ho sbagliato. No. Ah ok, non era proprio possibile, quindi. Pensavo che avendo avuto quel momento di panico nel mezzo. Ma cosa devo fare? Oh. No vabbè, ma perché? Ok. Ero convinto che non si fosse aggrappato, invece si era già aggrappato. Quindi ho schiacciato il salto e lui ha mollato la presa. Cosa che adesso non farò. Porca miseria. Non c'è mai un attimo di tranquillità. Eh no, ancora. No vabbè, ma dai, ma dai. Ma è impossibile. Adesso mi agito perché... No vabbè, dai, ma per cortesia. Ok. No, guardavo se di sotto magari... Ok. 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 No, guardavo se prendetevi. Sì, ma ragazzi, prendetevi una camomilla o qualcosa. Ma no, ma non mi ha colpito. Ma dove? Ma dove? No, vabbè. Ok. 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 Ti prego ti prego ti prego Calma 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 Tanto però ci ha fatto il mazzo un pari di volte Dammi sto occhio va Calma Perchè c'è un... Vabbè Non ho capito perchè ce ne sia uno lì però Avrò sbagliato strada Buon per proteggere la città Nel l'altro lato La terra di Mustachio Ok stavolta Non mi faccio Non mi faccio fregare Ok stavolta Il mittell 넣 Puffin Conestration Son Ok. speriamo che così vada ok 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 allora lo spostiamo un po' in modo tale che no vabbè dai non ci posso prendere ok allora è adesso ok intanto continuiamo a fare incetta di achievement sì ma dove devo andare urca urca allora qua questo lo strappiamo vai ok e speriamo di azzeccarlo non l'abbiamo azzeccato bene neanche stavolta bene ok ma c'è io non ci posso credere cioè io non ci posso credere però anche lui io sono tordo però anche lui non scherza eh cioè prendi la staffune no e che ti costa ok mamma mia dovevamo morire tre volte ok ok dal zan dal zan ok andiamo avanti e siamo al capitolo 2 abbiamo finito tutto il capitolo 1 e adesso entriamo in capitolo 1 di 2 cioè 1 del capitolo 2 alla bici benvenuti benvenuti al capitolo 2 siamo vicino al primo il primo il primo il primo sul nostro pietro uoh uoh vicino urca pensavo di esserci ma sto proprio secco io questa volta speriamo che non sia tossico uuuh via ecco appunto via via veloci senza paura vabbè vabbè bastardissimo ok vogliamo andare di qua spero che non si debba per forza stapparli tutti perché sennò sicuramente ne ho già persi lungo il cammino almeno un paio non si non si è poi dia non Ma si possono far fare sta roba con un ragazzino, io non lo so Ciao ciao, esplodi Speriamo, dicevo, che non sia tossica sta roba verde Anche dopo che quelle ranocchie sono esplose Ma non mi sembra E Ale, il pennarello vola via Sì, ma non puoi lasciarmi così Via via, andiamo, andiamo, dai Speedrun Guardate che abilità ragazzi Io volevo andare là però Sicuramente c'era qualcosa anche di là Bene ragazzi, direi che vista la parte un po' ardua che ci attende Almeno quello che mi sembra Mi sembra Ripetizione, scusatemi Mi sembra anche venuto il momento di salutarci Visto che comunque abbondanti 15 minuti sono passati E quindi io direi di Niente, lasciarci qui Come al solito vi invito a lasciare un commento A dirmi la vostra A lasciare un mi piace o non mi piace come sempre A seconda di quanto abbiate gradito il video E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzuoli